Rieccoci una buona serata da Marcus, allora prima di passare nella previsione completa in dettaglio per quanto riguarda la ruota di Genova col 90, diamo un'occhiata un attimino a ieri sera, guardate l'8++, l'8++ la dava proprio nella prima posizione, guardate un attimino ieri è stata l'estrazione che da giorni, da 3-4 giorni annunciava il 90 su Napoli, peccato che non è arrivato col 19, adesso nuovi abbinamenti su Genova perché la Cagliari e Genova è quella che dà ancora la condizione, ma non solo. E' nata una condizione ieri sera fra Firenze e Genova, ho fatto uno schema unico completo per vedere questi 90 dove potrebbero cadere e attenzione, Genova è quella più accessoriata nel senso di tutte le somme che vanno a finire a Genova, quindi quella migliore a sparare mio rimane Genova, poi Cagliari e poi Firenze. Però adesso andiamo nel dettaglio, come vi dicevo, ieri sera è uscito il 90 su Napoli, guardate l'8++, quindi come vi straripeto da giorni, da mesi, da un anno e mezzo, due, si fa il dettaglio, la previsione con l'ambata contata e vedrete che andrete a vincere. L'8++, questo programma che lo sta dando Roberto, ha un prezzo incredibile ancora questa settimana, penso che ci sono rimaste ancora 7-8 licenze e non di più, quindi io metterò sempre il link in descrizione e il link nel primo messaggio come testo. Poi, allora, andiamo a vedere nel dettaglio, questi sono gli ultimi 290 che sono sortiti ieri sera, il Napoli e il Venezia, così è stato per Napoli. Allora, chiudiamo un attimo qua e guardate l'8++, allora, noi adesso andiamo indietro, chiudiamo addirittura il programma, questo era nello specifico poi la classifica del 90, rimane Genova e Cagliari, come vi dicevo, ma attenzione, perché adesso, dopo Napoli, quindi adesso rimangono Cagliari e Genova, ma fra Firenze e Genova si è formata un'altra somma 90, quindi tutte che vanno a finire, allora, Genova riceve più somme 90, per quello vi dico Genova, e adesso sentiremo di formulare una nuova previsione solamente su Genova come 90, come ambita equaterna, la classifica del 90 rimane quindi tale quale, Cagliari, Genova e adesso vedremo fra Firenze, poi nel dettaglio, va bene? Allora, nuovo schema, eccolo qua, allora, stasera ho lavorato un pochettino per formulare questo schema, ma è importante, perché questo è l'ultimo quadro trazionale di ieri sera, Firenze e Genova di nuovo riceve un'altra somma 90, questa volta da Firenze e Genova, 47-43, 47-43, somma 90, queste sono le posizioni in giallo dell'8++ Gold, Genova riceve di nuovo un altro contributo, un'altra somma 90, perché quindi non c'è solo quella adesso di Cagliari e Genova e quella di Napoli e Genova, ma c'è anche adesso quella fra Firenze e Genova, Genova continua a ricevere somme 90, quando succede questo? Il 90 potrebbe fare davvero capolinea su Genova, ma poi abbiamo il Venezia di ieri sera che va a finire a Palermo, riflesso a Genova e il 25 settembre, quindi l'estrazione prima, quella di ieri sera, di nuovo a Venezia esce il 90 e il 90 va a finire di nuovo a Palermo e Genova e quindi, attenzione, perché quando riceve una doppia, praticamente consecutiva, sortita del 90, della stessa ruota, poi di nuovo fa riflesso a Genova, quindi abbiamo tre somme 90 e poi abbiamo due, due canali che portano a Palermo e Genova, Palermo ha dato di recente, ma anche adesso Genova, quindi Genova diciamo che rimane in mezzo a queste ruote e quindi quella che riceve più colpi, per così dire, è Genova e allora questa sera stravolgeremo la previsione, perché adesso Genova uscirà probabilmente con la settantina, due o tre potenziali ambi con la settantina, speriamo che ci scappa un ambo interno, ragazzi, questa è un'ottima previsione, è una Genova da favola, speriamo bene, allora, abbiamo detto che, ripetiamo, Cagliari e Genova somma 90, Napoli e Genova somma 90, per adesso è uscito il 90 a Napoli, attenzione, poi Firenze e Genova, di nuovo somma 90, quindi sono tre somme 90 con queste, più 1, 2, quindi 3, 4, 5, 90 che fanno riferimento a Genova, poi abbiamo detto anche che c'è la condizione del terzo estratto della nazionale, che va a finire Milano, Genova e Napoli, attenzione, allora, una sola previsione riguardo a Genova, ma la classifica del 90 riguarda Firenze e Genova, ok? Cagliari, Firenze e Genova, io ho messo Palermo, perché Palermo fa riflesso, quella di Venezia, Cagliari, allora andremo a vedere poi le situazioni di Cagliari, comunque rimane Cagliari, Firenze e Genova adesso come struttura, questa è la vecchia struttura, avete visto che ieri è uscito il 90 di Venezia un'altra volta? Adesso vi faccio vedere un'altra cosa poi, perché il 90 era sortito due volte consecutivamente quasi, e quindi il 90 è arrivato poi su Venezia due volte, quindi quando ci sono due 90 su Firenze, che poi possono, vedete, 4 settembre, 4 e 21 settembre, non erano consecutivi, però quando ci sono due condizioni, doppie condizioni, il numero si ripete sempre e va a colpire quella ruota che ha più frequenza, quindi ve l'avevo detto che fra Mario e Venezia la migliore è sempre rimasta Venezia, perché Venezia ha più frequenza, quindi adesso Venezia è uscita due volte perché ci sono due condizioni che portavano il 90, vedete, quella del 21 settembre e quella del 4 settembre, ecco perché è uscito due volte su Venezia, e infatti se ci fate caso più convergenze ci sono e più allora il numero, per così dire, costretto a uscire, quindi adesso Genova riceve 5 contribuzioni di trassomme e praticamente ambate contate, quindi a Genova praticamente la ruota è la migliore, senza andare tanto avanti nel discorso, foglio con tutta la previsione al completo, eccola, Genova 90 in seconda, terza e quinta posizione, seconda alla terza forse sono le più forti come condizioni, quindi io metterei un 3 più qua in queste condizioni, nella quinta posizione, abbinamenti allora si stravolge la previsione, 71, 72, 74, questi sono i migliori abbinamenti che secondo me potrebbe andare d'accordo con il 90, allora il 19, 90 è ancora valido, io ho messo come numeri principali 71, 72, 74, se volete aggiungere il 19 ben venga, ok? E se volete aggiungere il 19, 90 su Cagliari ben venga, ok? Però adesso il 90 avendo tutte quelle condizioni, 90 adesso ricalcolato, porta la settantina con il 90, quindi 71, 72, 74 sono i migliori abbinamenti per il 90 su Genova, speriamo che stavolta sia la volta buona, e quindi adesso più condizioni, come vi ripeto, ci sono su Genova, adesso questa previsione vedremo se andrà in porto, e quindi adesso rivediamo di nuovo lo schema, piano piano rifocalizziamo tutto, abbiamo come vi ripeto, la somma 90 fra Firenze e Genova, poi l'ambata contata che va a finire due volte, quella di Venezia consecutivamente, va a finire Palermo, ma Palermo riflessa Genova che è la sua gemella, e poi la somma Napoli-Genova, la somma Cagliari-Genova, insomma ragazzi c'è un frappè, un estrone di somme che è pazzesco, quindi Genova rimane quella di mezzo, e Genova con tutta probabilità riceverà il contributo del 90, quindi 90 con la settantina, 71, 72 e 74, ambi secchi, Terna-Equaterna specialmente su Genova, quindi la classifica invece del 90 rimane Cagliari-Firenze-Genova, perché se noi ritorniamo nello schema, questo di Napoli va a finire a Firenze, fra Firenze e Roma la migliore è Firenze, quindi Firenze-Genova e Cagliari, Cagliari-Firenze-Genova, adesso rimangono le tre ruote indiziate, io comunque mi soffermerei su Cagliari-Genova in questo momento, però le condizioni adesso sono queste, per il futuro 90, ok? Cagliari-Firenze-Genova, io ho messo Genova alla primaria perché riceve più somme 90 rispetto alle altre, vedremo, previsione unica, poi la classifica del 90 è questa qua, Cagliari-Firenze-Genova, migliore è Firenze perché c'è la somma Firenze-Genova, quindi Cagliari-Firenze-Genova, la condizione del 90, come classifica, poi se volete giocare anche a Roma come riferimento, fatelo pure, però in questo momento Cagliari-Firenze-Genova prendono valore, perché ci sono le somme, vedete? Mentre invece a Roma non ce n'è. Allora, ci risentiamo alle prossime news, vi abbraccio sempre dal vostro amico Marcus, buona serata ancora a tutti.